Agenzia regionale di sanità via libera dell'aula al bilancio d'esercizio 2022 approvata a maggioranza la proposta di delibera. Il Corecom lancia il bando alla toscana che fa bene che premia la miglior campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2022-2023. Al via Certaldo la 25esima edizione di Boccaccesca la rassegna dedicata alle eccellenze no gastronomiche e artigianali italiane. A caprese Michelangelo tutto pronto per la festa della castagna. Via libera al bilancio di Ars Via libera al bilancio d'esercizio 2022 dell'Agenzia regionale di sanità da parte del Consiglio regionale della Toscana che ha votato a maggioranza la proposta di delibera con il voto favorevole del PD ed Italia Viva contro la rilega Fratelli d'Italia Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Il bilancio ammonta 2.736.000 euro con un utile di 76.849 euro. L'atto stabilisce che l'utile di esercizio di Ars sia così ripartito il 20% destinato a riserva legale per la copertura di perdite future, l'80% da restituire alla regione. A questo proposito, dato che nella facoltà del Consiglio regionale disporre che l'80% dell'utile sia riassegnato in tutto in parte all'ente per la realizzazione di investimenti o per finanziare le funzioni di ricerca per attività scientifiche e nuove progettualità, l'aula ha spiegato il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostenì su proposta della Commissione Sanità, ha stabilito che quest'ultima somma sia restituita ad Ars. Ars dovrà usarla per effettuare una ricerca sull'uso della sanità privata non convenzionata da parte dei cittadini toscani con riferimenti di benchmark rispetto a periodi precedenti. Il bilancio di Ars, come tutti gli anni, abbiamo approvato il bilancio di Ars 2022, quindi quello consuntivo. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa, ne sappiamo il finanziamento di Ars ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo Ars è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che come prevede le leggi noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio generale della regione o di mantenerlo ad Ars vincolandolo ad un lavoro specifico e abbiamo chiesto appunto che Ars faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. Per il consigliere Scaramelli ad Ars va chiesto sempre di più. L'Ars sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'Ars va chiesto sempre qualcosa di più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana, su questo noi stiamo lavorando per incidere penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte e quindi credo che l'Ars possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. La consigliera Tozzi ha spiegato perché sul bilancio di Ars il parere è negativo. Sul bilancio dell'Ars il parere è negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia regionale di sanità. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo pretendere di più. Noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione. Cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste di allungare più soldi e più risorse da parte del Governo nazionale senza però legare ripeto a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che come dire anche qui può sembrare quasi scontato. In realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'Agenzia regionale di sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice raccordo quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Andrea Ulmi della Lega ha espresso voto contrario all'atto anche se ha detto il bilancio di Ars è ineccepibile dal punto di vista ragionieristico. Il bilancio di Ars è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo perché avanzano 70 mila euro quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi, invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600 quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di Ars e questo compete al Consiglio regionale e come ho detto in aula se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo. La Toscana che fa bene Dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. È questo l'obiettivo del bando La Toscana che fa bene promosso dal Corecom in collaborazione con il Centro di Servizi Volontariato Toscano che giunge quest'anno alla seconda edizione e che premia la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2022-2023. Un premio importante che il Consiglio regionale promuove è perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della regione toscana. Al bando possono partecipare soggetti giuridici, pubblici e privati con sede legale in Toscana che abbiano prodotto campagne di comunicazione sociale nel corso del 2022 e o 2023. Sarà possibile presentare la domanda entro il 31 ottobre prossimo il premio per il vincitore è di 5.000 euro. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Cecchi di Prato il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana appunto che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale perché uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. Fondamentale il ruolo del CESVOT nel promuovere l'iniziativa in tutte le realtà sociali della Regione. Noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio di più di 3.500 campagne di 68 paesi del mondo quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee e certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. Più che altro la comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing perché noi non facciamo marketing ma facciamo però marketing social nel senso di indurre comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone perché anche riprendere in mano appunto la questione del valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi. Il bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione toscana, sul sito internet del Corecom della Toscana e su quello del Consiglio regionale alla sezione avvisi, gare e concorsi. È tempo di Boccaccesca Dal 13 al 15 ottobre a Certaldo si svolge la 25esima edizione di Boccaccesca la rassegna delle eccellenze no gastronomiche e artigianali italiane. Nel fine settimana il programma coinvolge il Borgo Basso e Certaldo Alta trasformando la località toscana in un grande contenitore all'aperto di buon cibo e ottimi vini. Nelle strade di Borgo Alto viene allestita la mostra mercato con espositori di eccellenze no gastronomiche e artigianali provenienti da tutta Italia. L'iniziativa percorso del gusto permette invece di partecipare a una degustazione itinerante con tanto di mappa da seguire per gli amanti del buon vino Celle Enoteca di Boccaccesca dove gustare le eccellenze locali. Nel programma non mancano momenti di approfondimento e riflessione come il concorso ragazzi in pentola dedicato ai ragazzi delle scuole il premio Boccaccesca. Più che stupirci gioiamo perché il vedere la gente soddisfatta per non ha gioia. Io siccome Boccaccesca 25 anni fa nel 99 quando la prima volta si partì tutti pensavano si fosse pazzi perché sul cibo proprio non esisteva cooking show sul cibo e io mi ricordo la prima volta che venne in Regione nel 99 e anche la Regione stessa gli assessori si meravigliarono. Addirittura voi siete giovani ma c'era allora l'assessore Perriccioli, Moreno Perriccioli forse lei se ne ricorda, che si stupì e venne e gli piace. Ecco noi sono 25 anni che gioiamo di questa cosa, ogni anno ci rinnoviamo per quel che possiamo quest'anno c'è un premio Boccaccesca importante. Boccaccesca pensa anche ai bambini che saranno i protagonisti della rassegna Oggi Cucino Io dove i piccoli saranno guidati da Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca nella realizzazione della loro merenda. Il premio Boccaccesca che si svolgerà nel cortile di Palazzo Pretorio sarà presentato da Anna Maria Tossani e verrà assegnata da Ike Schmidt, il direttore delle gallerie degli uffizi che ha portato nel mondo il nome della Toscana anche attraverso l'uso e l'utilizzo dei social. Nel Borgo Basso in piazza Boccaccio sarà protagonista lo street food con Degustando in piazza, bar, ristoranti, enoteche e gelaterie diventano soste di un itinerario all'insegna del gusto, sia nel Borgo Alto che Basso ampio spazio al divertimento e alla musica con vari spettacoli di intrattenimento. Boccaccesca è arrivata alla venticinquesima edizione, un quarto di secolo, quindi una manifestazione più che consolidata che è partita tra le prime che hanno voluto coniugare l'enogastronomia al luogo, al turismo, cosa che poi negli anni si è sviluppata anche in tanti altri territori e che qui ha voluto comunque rappresentare un punto di avanguardia che ora è consolidato e che rappresenta un momento di presentazione delle eccellenze enogastronomiche, un momento per vivere il Borgo di Certaldo, quello alto, quello medievale, però anche tutto il paese di Certaldo. Insomma, una bella occasione per conoscere Certaldo e in questo caso attraverso Certaldo le caratteristiche di tutta la Toscana. La Toscana è questo, sono borghi straordinari, è la celebrazione delle nostre eccellenze. Certaldo, devo dire, si contraddistingue da sempre per manifestazioni di altissimo livello e questa è sicuramente una fra quelle. Per cui io credo che questi momenti siano molto importanti nel fare comunità, nel riscoprire i gioielli del nostro territorio e nel saperli promuovere dando un profilo profondamente radicato con la nostra storia, con i nostri usi e costumi, per cui in questo devo dire che la Toscana diffusa, di cui spesso parliamo, ha forse la sua rappresentazione più efficace, per cui davvero ci auguriamo che sia una splendida edizione e saremo tutti per le vie di Certaldo da assaporare i sapori migliori della nostra Toscana e vivere momenti davvero di comunità molto gioiosi. La festa della castagna Sarà la castagna l'assoluta protagonista dei prossimi weekend a Caprese Michelangelo in provincia di Arezzo. I fine settimana del 14 e 15 e del 21 e 22 ottobre saranno animati infatti dalla tradizionale festa dedicata al marrone, con stand gastronomici, bancarelle di prodotti tipici, laboratori per bambini e rievocazioni degli antichi mestieri. La castagna è stato un elemento fondamentale per la cosiddetta economia della selva nel Medioevo. Non era soltanto un prodotto, ma era un bene di commercio, un bene di scambio insieme con i cereali. Questo ci permette di riflettere su quello che è stata in passato la Toscana. E non a caso Caprese viene da Capra, probabilmente c'era un villaggio di allevatori, di pastori ed ecco l'importanza della foresta, della castagna. Tutto ciò ci invita a una seria riflessione su quello che possa essere il futuro della castagna, quelle che possono essere le nuove forme di impiego, delle nuove economie basate su questi prodotti storici. Lasciatemi dire che è anche un'importante occasione per cominciare a preparare quel percorso che porterà anche Caprese a celebrare degnamente il suo figlio più importante, che è Michelangelo Buonarrotti, a 450 anni dalla nascita. La festa, giunta alla sua 53esima edizione, diviene quindi un'occasione per conoscere più da vicino il borgo e le sue eccellenze. È un mercato pieno di stand che non sono solo gastronomici e che è importante, ma sono anche dell'artigianato, prodotti del territorio. Chiaro la castagna è l'elemento essenziale, soprattutto il nostro marrone conosciuto come Annoredop, per le sue qualità e quindi dalla tradizione culinaria che c'è nel nostro posto, chi viene anche può assaggiare non da poco dei bei di piatti che gli stand, i ristoranti e anche gli agriturismi, ce ne abbiamo di belli, potranno far degustare. Le novità ce ne sono molte, sia il primo weekend che il secondo. Per il secondo weekend avremo il nostro fiore all'occhiello che il comitato donerà un'opera al comune di Caprese Michelangelo di cui ne vado molto fiero, grazie alla collaborazione di tutto il gruppo che siamo stati molto uniti. Infatti la cosa che ci tengo a precisare che Caprese Michelangelo sì, siamo 1300 abitanti, però quei pochi che siamo siamo molto uniti e molto collaborativi e quindi questa cosa mi rende veramente orgoglioso. Oggi il marrone di Caprese è una castagna ricercata per le sue qualità organolettiche che la rendono molto richiesta. Questo permette ai tanti piccoli produttori, di solito famiglie che da generazioni sono proprietarie di appezzamenti di terreno coltivati a castagno, di mantenere il territorio e prendersene cura. Passeggiare fra i castagneti diventa quindi un piacere per gli occhi. Castagni secolari, seccatori ristrutturati e ben tenuti, terreni puliti fanno di Caprese Michelangelo un giardino naturale. Il prodotto locale, in questo caso il marrone, consente alle persone di poter abitare, di poter lavorare in queste realtà, nelle cosiddette aree interne, alle quali noi abbiamo rivolto anche una particolare attenzione con la legge custodi della montagna che voglio ricordare intende dare contributi sino a 6.000 euro per le nuove aziende che vengono create e 3.000 euro per quelle già esistenti che fanno un patto di comunità con l'amministrazione comunale ogni anno per 5 anni. Quindi proprio nell'ottica di dare un contributo a chi fa un lavoro importante anche di custodia e di presidio di un territorio.